Buonasera e benvenuti ad una nuovissima puntata di Decore Podcast direttamente dal Riverside di Roma. Siamo a Montesacro, siamo a Città Giardino, se c'è un pubblico in sala che si facesse sentire anche da quelli che ci seguono poi da casa. Ed è proprio questa l'accoglienza che ci aspettiamo da voi e non ci deludete mai e noi vi ringraziamo, ma l'applauso più grande va a Gabriele Corsi che ha accettato. Troppo buoni, grazie. Non è che gli ospiti possono essere tutti di qualità ragazzi, diciamoci la verità. Stasera è andata così, dai. Possiamo dirlo che stasera siamo tra amici? Eh voglia, beh spero di sì, spero di sì. E noi siamo contentissimi di averti qua, che tu porterai il tuo racconto che è molto interessante, è un racconto Decore del motivo che ti abbiamo invitato, ma ti abbiamo invitato anche per un altro motivo e questo è il mio motivo e non di Danilo, perché io empatizzo con te per l'estrema difficoltà di avere a che fare con Danilo. È una cosa che io sto sopportando da circa un annetto, tu da ben di più. Sì, diciamo, è la nostra 104 Danilo, insomma, questo. Ti sento molto vicino per questo, sì. No, poi uno scherza e ride, ma Danilo, tutti vorremmo un amico come Danilo. Non so se avete visto, se vi è capitato di vedere lo scherzo che abbiamo fatto a Danilo a Diluidit. Tu l'hai visto? L'avete visto voi ragazzi? Qualcuno l'ha visto? Arianna è stata anche partecipa di questo scherzo. Comunque Danilo ha finto di aver messo incinta una ragazza al posto di furio. E poi ricordo che abbiamo mandato quest'energumeno che fingeva di essere il padre della ragazza. Che sarebbe dovuto essere un capo ultrà della Roma. Capo ultrà della Roma. E quando questo si è alzato Danilo ha detto a furio. Oh, è poco grosso. Ed io, l'unica cosa che ha detto, e poi gli diceva, ma tu sei furio? Sì, sì, sono furio. È poco grosso. Quanto è grosso. No, raga, io ho avuto seri problemi, io non riuscivo a capire più se era uno scherzo o era vero. Per me questa è veramente una puntata emozionante, perché ogni tanto anche in radio lo racconto. Io, insomma, cerco sempre, diciamo, i consigli di Gabriele, il parere di Gabriele. Cerchi o temi? No. Di la verità. Cerco e un po' temo. Entriamo nel vivo della puntata. Parliamo di voi, ma che c'è stata a fa' qua? Di mercoledì. Ma siete pure tanti. Quindi vi siete tutti persi la puntata di Don Forget the Lyrics, mi sembra chiaro, eh? La recupereranno però, la vedranno in replica. Iniziamo solitamente con la definizione di Wikipedia, che spesso è sbagliata. Vediamo. Ma l'obiettivo è che poi i nostri ascoltatori, se c'è qualcosa di sbagliato, l'andranno a cambiare, e questo succede spesso. E dice Gabriele Corsi, Roma, 29 luglio del 71, è uno showman, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, comico ed ex attore italiano componente del Triomedus. Ecco, questo io ho provato a modificarla, vorrei che si togliesse quell'ex attore. È molto brutto. È brutto, perché sembra che non sia più un'attività. Tra l'altro, così, notizia magari che può essere... Questa è la battete, le agenzie, Gabriele Corsi a Decore. Escono ben due film che vedono la mia partecipazione. Si possono... Quali sono i titoli? Il primo... Allora, in tutti e due i film faccio il conduttore televisivo. Il primo è il film con Max Giusti, Paolo Calabresi, che si chiama Dicono di te, ed uscirà a marzo, ma a dicembre dovrebbe uscire il film dei soliti idioti, in cui io faccio il conduttore. Quindi, perché non so se conoscete i soliti idioti, soprattutto i personaggi quelli che fanno oh, figa, eh, uno dei due finisce a fare un quiz. Ed è un pezzo veramente delirante, ma veramente molto, molto diverso. Quindi, quando li vedremo in che anno, nel 2024, tutti e due? No, questo credo che esca addirittura a dicembre. Dovrebbe uscire a dicembre. E quindi, pubblico di Decore, soprattutto... Togliete quell'ex. Chi è ammanicato con Wikipedia, perché c'è sempre qualche nerd che riesce, eh, togliete quell'ex. Tra l'altro, voi... Ma poi perché, cioè, ex, se uno inizia a fare... l'attore, poi... Cioè, poi inizia a fare anche altre cose. Non è che perde le cose precedenti. No, ma tra l'altro, io poi, è l'unica cosa per la quale ho lavorato e studiato tanto. Cioè, io, a parte farmi espellere dall'Accademia Rettetrammatica, ma sono diplomato all'Actor Studio. Cioè, io ho fatto il corso, che non è che mi è servito molto. Però quando venne Susan Strasberg, che è la figlia di Lee Strasberg, l'inventore del metodo, no? Il famoso metodo Stanislavski. Cioè, il metodo coniugato Stanislavski. Io feci questo corso con lei e mi ricordo che la sera andavo a cena e lei aveva vissuto due anni, tre anni. Esiste anche un libro, proprio, se cerca di Susan Strasberg. Cioè, Marilyn Monroe viveva a casa sua. Lei era stata l'ultima che aveva visto James Dean. Cioè, mi raccontava ste robe pazzesche. Robetta. Esatto, era Manuel Fantoni, ma vero. Cioè, capito? Ti raccontava di gente che aveva conosciuto veramente, ma grandissimi attori. Vi racconto questa cosa che mi ha fatto impazzire. Posso rubare una roba? È un episodio bellissimo. Siamo qui apposta. Ricordate Dustin Hoffman quando ha fatto il Maratoneta? Cioè, lei si arrabbiava moltissimo perché diceva che noi attori italiani, gli attori italiani, noi, adesso mi sono incluso in questa categoria. Comunque, se la sentono un po' calda e si sentono tutti quanti un po' troppo presi dalla parte. E lei diceva, un attore che non fa questa professione in maniera, diciamo, insomma, giusta, finge che poi rimane nel personaggio. Dustin Hoffman, quando ha vinto il premio Oscar per Rayman, fece una scommessa con il padre. Disse, scommetti che io adesso salgo sul palco, fingo di essere ancora... Mi ricordate che Rayman parlava tutta la volta? E la gente ci cade. E lui dice, sono passati sei mesi. Ma ti pare che ci cascano? Se lo googolate, c'è lui, c'è Dustin Hoffman che fa tutto il discorso, dice ringrazio e fa tutta la parte di Rayman, così. Scendendo, guarda gli Strasberg e gli fa, tu paghi, perché ha vinto la scommessa. Quindi era una donna che veramente ti raccontava gli errori quinte. Penso che abbiano anche scritto un libro, ma c'era degli episodi uno più bello. Lei dovete invitare? Io, insomma, gli posso raccontare gli episodi di altri. Quindi togliamo quell'ex per favore e verificheremo magari anche già a fine puntata, se qualcuno che è in sala l'ha fatto, perché a volte ci succede. Però se dovessi scegliere una di queste cose, ti devi definire solamente o attore... Showman, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, comico, ex attore, componente del triumetusa. Ma direi italiano. Italiano va bene su tutto. No, vabbè, Showman è onnicomprensivo, quindi dai, Showman va bene. Senti, ma soprattutto a marzo del 2023 vinci il Telegatto. Cioè io non so se abbiamo avuto altri ospiti come hanno vinto un Telegatto. Non so se Tiberio d'Imperio ha vinto un Telegatto. No, non lo so. Max Giusti ha vinto un Telegatto. Che ne so. Gabriele Corse, sì, regà. Facciamo un applauso al Telegatto. Secondo me è un obiettivo di vita grosso. Allora, adesso possiamo ironizzare, però io quando me l'ha dato Aldo Vitali, che è il direttore di TV, storie e canzoni, mi sono commosso, perché mi sono ricordato di me, ragazzino, al quadraro, che sfogliavo TV, storie e canzoni, e mi dicevo chissà se mai parlerà di me questo giornale. Quindi già la prima volta il primo articoletto te lo ritagli, te lo custodisci, farsi, insomma, farti vedere, avere nelle mani il Telegatto. Poi Danilo lo sa, quando io l'ho vinto ho mandato messaggi a tutti, perché quel Telegatto in realtà, c'è scritto Gabriele Corse, ma dietro ci sono tantissimi nomi perché non è mai il frutto di un lavoro, di un singolo, insomma, il percorso professionale è sempre frutto di tantissime collaborazioni. Che poi è cambiato però, non è più d'oro come era una volta. No, è fatto da un collettivo di artisti, però il calco è del Telegatto. Sembra di PVC, di plastica riciclata. Però è una cerimonia molto particolare, te lo devono autenticare, insomma. Il bello è che ti chiedono che colore lo vuoi. Tu cosa hai scelto? Giallo. Giallo. Fatto bene, no? Perché ce n'era uno, credo che adesso li facciano blu e rosso. Ora, credo, però no, adesso non lo posso dire, forse ne ho vinto un altro, il Telegatto. Dai. Forse, forse. Allora un applauso al secondo Telegatto. Però gli ho detto no rosso. Pensa se poi non te lo danno. Adesso non me lo danno più. Se il Telegatto lo tagliamo, sono solo. Ma dove lo tiene il Telegatto? Dove ce l'hai? Allora, i premi... Vincita il pallone d'oro. No, i premi li tengo tutti al bagno. Li tengo tutti al bagno. Il Telegatto, devo dire che siccome emotivamente mi coinvolge molto, l'ho messo all'entrata e che lo devi guardare. Cioè entri, vedi, lì sotto. Lo vedi subito. E l'ho messo accanto al premio di Special Olympics che hanno dato anche a Danilo. Cioè ci sono due o tre premi che ho... A cui tieni. Però siccome non voglio la casa che diventa, come dire, il Tempio... Il Memorabilia. Il Memorabilia, sì. Anche perché poi sembra evidente che uno è passato a miglior vita. Ce l'hai altri premi vinti da ragazzo? Magari pure sportivi, coppe? Oppure medaglie? Sì, beh, c'ho la medaglia della Maratona di New York. Ah, sì, sì. Quella lì. L'unica in cui non abbiamo barato. Quindi, insomma, mi sono ottenuto quella in cui non abbiamo barato. Sì, poi c'ho un po' di premi vinti, che so, le campioni di calcio, queste robe qua, insomma. Però perché io non ce l'ho a casa? Quindi, sai, la mia non dote nello sport. C'ho quei premi quelli simpatici. Non so perché c'ho il calco del mio sedere. Questo è interessante. Non lo so perché. C'ho un premio che c'ho il calco del mio sedere. Ma ai tempi di... Non voglio, adesso non ricordo, ma ce l'ho sempre al bagno, che è quello, diciamo, è anche il posto giusto. A me sembra... Ma entriamo proprio negli appuntamenti... Ah, scusa, c'ho anche un tapiro che però mi sono rubato, quando facciamo le iene, dalla redazione di Striscia. Tapiro d'oro è importante. Però tu non l'hai mai preso, un tapiro. No. C'è sempre tempo, però. Non si sa mai. Senti, entriamo proprio nel format Decore Podcast. Tu da che città e da che zona vieni? L'hai accennato velocemente prima, ma diccelo con un po' più di... Allora, nato e cresciuto a Via Lemonia, nato nella clinica tuscolana, quindi nato ai bordi di periferia. Mia mamma, professoressa di matematica della scuola di zona, è stata professoressa di Eros Ramazzotti. Quindi, tutte le volte che mi incontro, Eros mi chiede di mia madre, è bellissimo perché... Com'è stato, madre? Io bene, grazie, e tu? Dico ogni tanto, magari che... E' nato e cresciuto lì, ho fatto le scuole lì, la comitiva lì. Ho fatto il catechista a San Policarpo, la chiesa di zona e poi... Insomma, a un certo punto i miei mi hanno spostato al Cavour come scuola, diciamo, quella centrale, perché erano... Fine anni Ottanta, insomma, c'era un momento di grande tensione non solo sociale, ma di diffusione di stupefacenti e per stupefacenti, insomma, si parla di eroina. Negli anni Ottanta era veramente incredibile come la facilità con cui potessi reperirla. Io parlo spesso con mia moglie che è di Piazzari di Roma e lei non conosce nessuno che avesse, insomma, utilizzasse eroina. Io ricordo questa cosa come uno shock, c'era questo ragazzo che poi veniva e non veniva, che era un ripetente, ma in terza media morì un compagno d'overdose. Quegli anni lì erano anni veramente, insomma, tosti da questo punto di vista. Per te è ancora quella una zona di core? Per me quella è la zona in cui la gente mi chiama Lele. Quindi io quando vado là mi sento protetto. Cioè io incontro sempre qualcuno che fa parte del mio passato, ma anche che so, le cassiere di Cossuto. Qualcuno di voi sa chi è Cossuto? Grande. Da tutta Roma. Io abito praticamente all'angolo girato, ecco, Cossuto è un grande magazzino. Vi dico solo questa cosa. Quando arrivò Toys Aras, cioè fece questa campagna pubblicitaria, che disse se trovate i nostri giochi che costano di meno, noi vi diamo la differenza. Hanno chiuso dopo due settimane. Perché Cossuto li faceva tutti a metà. Diciamo che le categorie merceologiche variavano, no? Lì ogni tanto. C'era un po' di tutto a momenti. Io mi ricordo una volta c'era centinaia di migliaia di puzzle dei ragazzi di Ronel Arai. Quindi dipendeva dai momenti. Però tutto a prezzi molto scontati. E le cassiere sono quelle di sempre. I famosi cartoon party, quelli in cui noi ci mascheravamo, passavamo da Cossuto e con 100 mila lire facciamo 40 vestiti perché trovavi di tutto. Ti guardano un po' come un orgoglio di qualcuno del quartiere che in qualche modo ce l'ha fatta ad arrivare in un contesto di spettacolo. Cioè senti un po' che qualcuno è fiero del fatto che sei diventato un personaggio riconoscibile. Guarda, io spero che siano fieri di come sono arrivato a fare questo. Cioè spero che, come dire, apprezzino il fatto che io sono sempre rimasto Lele. Penso che Danilo almeno su questo può confermarlo. Cioè chi mi conosce, chiaramente sono cambiato magari per l'età, per l'esperienza, però sono rimasto insomma veramente quel ragazzo quello lì del quadraro. Io sono molto fiero, sinceramente. Forse sono più fiero io di essere rappresentato di quella zona che la gente di lì. Magari a qualcuno gli sto anche antipatico. Questa è una bella cosa perché hai ribaltato la cosa e invece solitamente ci dicono il contrario. Invece è un bel punto di vista di dire che sono fiero io di essere là. Ci raccontavi pure a cena senza entrare nei dettagli di una zona anche complicata, di un quadraro, di zone di Roma dove comunque la vita di un giovane vedeva un po' di quella Roma. Io ho capito dopo perché i miei hanno insistito moltissimo per mandarmi in una scuola che non fosse diciamo di zona. Tra l'altro i miei genitori si sono conosciuti del liceo scientifico Cavour dove io ho studiato e dove studia il mio figlio in questo momento. Quindi diciamo ha anche questo aspetto romantico. Però non capivo perché volessero che andassi in centro prendendo la metropolitana tutte le mattine facendo un'ora di... Poi all'epoca la metropolitana già adesso è complicata però all'epoca era veramente la roba che una volta su due si rompeva arrivavi devastato e poi non potevi fare la vita che facevano tutti quanti usciti da scuola che facciamo andiamo io ricordo le corse per prendere quest'ultima metro c'era una cosa una delle prime volte io ho cominciato a fare questo lavoro diciamo l'attore vabbè ma poi fermate perché io parlo mi chiamano no no vai vai il decoro è questo mi chiamano il dottor Di Vago adesso racconto per la prima volta un dietro le quinte con Gigi Proietti parlo con grande difficoltà con Gigi Proietti perché per me Gigi Proietti è chiaramente Gigi Proietti però è stata la persona che mi ha accolto sotto la sua ala io ho cominciato a fare il maresciallo Rocca nel 94 io sono stato cresciuto per motivi familiari come tanti mia mamma lavorava mio papà lavorava da mia nonna muore mia nonna la mia nonna materna e quindi il funerale viene fatto a Bologna perché lei era di Bologna il giorno in cui io vengo convocato per girare il primo giorno al maresciallo Rocca avevo 23 anni e quindi non sapevo come fare chiamo e quelli chiaramente mi dicono guarda mi dispiace succede però non è che spostiamo le riprese quindi io vado lì e sto da una parte tutta un po' da una parte e Gigi mi vede e mi fa core che c'è vieni qui e cominciamo insomma a parlare e lui dice ma lo capisco sta cosa perché sei venuto e mi comincia un po' a proteggere poi ero più giovane ero così e prendendomi così tanto in simpatia ma non io sta cosa non so se la posso raccontare però ve la racconto voi decinate voi se devi allora mi dice dopo un po' senti c'è Luca Ronconi che fa lo spettacolo all'Argentina anzi mi dice con quella sua capace c'era una giacca domani sera ti porta all'Argentina io 23 anni con Gigi Proietti all'Argentina in terza fila io a 16 anni per i ragazzi 16 anni mi ero fatto regalare il biglietto del gaitanaccio per farvi capire chi era per me Gigi Proietti andiamo a vedere questo spettacolo tre atti una cosa e lui ogni tanto perché Gigi era uno che prendeva per il culo il mondo ti piace? e io Gigi sì tra l'altro c'è una giacca di cammello tutto sudato che è l'unica giacca stavo morendo e il mio terrore per questo la metropolità il mio terrore era ma quanto cazzo dura sto spettacolo l'undici e mezza chiude la metro quanto dura a un certo punto vedo il secondo atto applauso scrosciante e lui mi fa andò vai c'è il terzo atto finito gli faccio Gigi vado ti è piaciuto? andiamo a salutare il maestro ah io ho capito 23 anni vai a salutare Luca Ronconi io ho fatto l'accademia capito? per me vado lì e lui lo vede immaginate Gigi caro Luca stavamo a parlare dello spettacolo ti è piaciuto? guarda come dice Gabriele una rottura dei coglioni che la metà passa vero? io con sta giacca di cammello tutto sudato con Gigi a chi te? dico no maestro no 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 Luca no e lui lungo lungo un sequestro questo devi ammettere ma come cazzo fa? diglielo Gabriele e io no maestro guardi in realtà forse devo un po' sforbiciare devi togliere due atti che sforbici ma una cosa non si capisce niente diglielo Gabriele io ho 23 anni no maestro sei sempre più sudato con sta giacca di cammello ma gli devo pagare almeno il taxi io lo devo pagare e io rimango praticamente così e lui mi disse questa cosa che non mi scorderò mai dice scusa ti ho messo in difficoltà ma è irresistibile se incontri qualcuno che non sa ridere me lo devi promettere scappa che effettivamente è un grande insegnamento quando incontri qualcuno che dice ma questo non c'ha il senso dell'umorismo mi disse devi scappare ed è solo una delle cose che mi ha fatto mi ha fatto dei pezzi tu diciamolo dopo che hai fatto il maresciallo Rocca da allora tu ti senti parte dell'arma dei carabinieri io sono carabinieri cioè questo non c'è che cazzo ridete c'ho il tesserino c'ho la patente mazza che bravo ti sei ricordato la patente perché io questa cosa della patente io a un certo punto perdo la patente la rifaccio sta patente ma tu l'ho messa poi non mi perdo mai niente mi chiamano i carabinieri e mi dicono abbiamo ritrovato la sua patente la venga a prendere al commissariato vado da questo tipo e gli dico scusi ma per cos'è dove l'avete ritrovata lui fa nella mia giacca perché le divise che hanno usato il maresciallo Rocca poi le hanno riusate quindi io si vede che l'avevo messa là dentro comunque io avevo questo tesserino dei carabinieri che ho perso e che mi hanno saputo che mi avrebbero ridato ma non me l'hanno mai ridata perché ogni tanto sai quando ti chiedono documenti certo ops se ti fermano dici che sono collega sono collega io ho lavorato tre anni con Gigi e ho lavorato ecco Gigi Proietti il primo giorno il secondo giorno facciamo i finti posti di blocco eramo a Zagarolo a Girazzo Zagarolo non mi scorderò mai la caserma era là e quindi ogni tanto fai passare le macchine fai passare le macchine passa sta macchina eravamo io e Gigi Proietti Gigi Proietti ed io passa la macchina e fa ah grande lui mi guarda e fa ce l'hanno con me ha fatto Gigi secondo te cioè questo era l'atteggiamento di Gigi Proietti adesso è il più più sfigato che va una volta che fa cinquemila mi piace si sente io non ho mai visto Gigi Proietti non trattare male ma rivolgersi male a qualcuno come non ho mai visto Fiorello rivolgersi male a qualcuno cioè evidentemente le persone risolte capiscono che è talmente un dono di Dio quello che facciamo che non puoi poi magari ci sono dei momenti che interrompi Danilo interrompi basta stai zitto che è talmente su di tu dopo il Maresciallo Rocca grandissimo successo che faceva 16 milioni vi ricordate il Maresciallo Rocca che era su Re 2 lo spostarono per un Daffasite a Sanremo pensa che periodo è una roba assurda però hai partecipato ad un altro capolavoro di cui ogni tanto non so se tu hai fatto parte del cast di Alex Lariete io farei un applauso ad Alex Lariete ragazzi tanta roba capolavoro capolavoro con Alberto Tomba e Michelle Unzinger Michelle Unzinger che si chiamava come personaggio Antasleva Botazzi regia di Damiano Damiani sapete quanto mi diedero per partecipare a quel film perché io avevo ancora quelle bellità ero ancora diciamo abbastanza che parte facevi in Alex? i carabiniere i carabiniere e Damiano Damiani mi disse vieni qua si dimmi perché siamo qua maestro io per conoscere non mi dà di lei non mi dà di lei perché siamo qua perché siamo qua perché siamo qua non lo so per i per i per i soldi per i soldi quindi fai una cosa Tomba quando parla non si capisce ma Alberto Tomba se ne rendeva conto lui no Alberto Tomba aveva preso un miliardo se non sbaglio per fare il film io ho detto al posto tuo avrei fatto la stessa cosa ma guarda proprio ma proprio poi vi dico quanto ho preso io però lui mentre lo faceva se stava rende conto comunque di base tu a un certo punto quando senti che sei ferma dai la battuta tu non segui il filologico infatti se tu che c'è su youtube sei cercato a un certo punto lo puoi fare e qui si la ragazza l'abbiamo arrestata nella camera numero 4 si ora vado a chiedere se puoi visitarla e poi lui mi disse ma che te se l'aveva del cappello ma che sei matto Damiano rimetti del cappello stai col cappello dai sei bravo e perché te riconoscono senza cappello e poi mi disse ti faccio un piacere un paio di scene di taglio e comunque mi diedero un milione duecento mila lire apposa cioè al giorno è come se adesso avevo tre pose però per il suo portatombe era pure poco ma no ma lui ma lui ma lui era lui faceva il suo ma lui non è il suo ma chi se ne frega ma lui giustamente e quello faceva un sciatore comunque parlavamo a cena di come è cambiato il momento diciamo dello spettacolo il casting del maresciallo Rocca c'era la casting che andava in tutti i teatrini diciamo underground romani a cercare i ragazzi che poi erbbero fatti i carabinieri io facevo questo spettacolo che si chiamava il giallo è servito al teatro arciliuto a piazza Navona paganti due Giorgio e Furio e il tiro metusa sempre e basta cioè sai quelle scene terribili in nove sul palco potete battere solo le mani in due solo in due no in due in due in due in nove battete questa scena è tristissima che in due e venne sta signora chiedeva a dirmi senti ma ti andrebbe di fare la televisione io no faccio solamente l'attore di prosa a teatro mi dispiace e lei mi disse no ma guarda questa è una cosa di Gigi Proietti Gigi Proietti potrebbe interessarmi ma di quanto parliamo per capire l'entità della cifra ma guarda diciamo che la prima cosa che fai potrebbero essere 3-400 mila lire apposa guardi la ringrazio molto ma all'incirca è quello che prendo qui ma dice mazza prendi 300-400 mila lire al mese no aspetta no che è la posa perché io non lo so aspetta perché io al mese ma posa il giorno il giorno dopo come verdone giuro tutto vero ero sul pianerottolo prima che aprisse la casa cinematografica cioè sai che cosa io dico oh aprite aprite ma qui 3-400 mila lire ho fatto 86 pose la prima serie del maresciallo prima serie infatti immagino tutte dichiarate perché se lo stai a dire no no vabbè che sono andate in prescrizione spero di sì non ho mai controllato i contributi però questo spiega perché poi dopo era un'esperienza formativa cioè tu stavi 8 mesi con Gigi Proietti quindi il passaggio è stato dal teatro vuoto al maresciallo Rocca direttamente alla tv sì in realtà la primissima cosa che ho fatto era un film con Margarete Fontrotta a 19 anni però non c'avevo battute però ero sul cartellone quindi tutti quanti ah non vedi le però non c'avevo battute cioè c'avevi il nome o la figura no la figura la foto non penso che neanche fossi nei dito cioè tipo ragazzo perché piangeva un funerale quindi ragazzo che piange al funerale sai quelle cose lì e sta foto del funerale era la locandina sì la scena del funerale sì era un film allegro ragazzi era una roba oh io guardate come attore drammatico sono molto bravo io ho fatto pittura i tempi comici queste sono le domande di Danilo da Fiumicino quando lo spingo c'ho la prima domanda da fare però no scusami nella puntata con Nuzzo e Di Biase che è appena uscita abbiamo creato una dinamica che forse voi non c'eravate però quando ogni volta che Danilo preme il pulsante per caricarlo ci vuole l'applauso allora rifaccio però questa deve diventare un automatismo per tutta la puntata aspetta la puntata di Nuzzo e Di Biase c'era anche che ogni volta buttava un bicchiere di vino per terra però ha ravesciato tipo 6-7 bicchieri di vino rosso l'ultimo dentro la borsa di quella che stava in prima fila come funziona sto pulsante? applauso ha tutto un altro sapore già di ben dispone le grandi domande la notte tu dormi in pigiama o in mutande? con 5 gocce di Chanel no dormo d'estate dormo è interessante ma devo rispondere veramente è interessante purtroppo sì guarda che capisci tante cose del personaggio Gabriele Corzio ogni tanto c'è qualcuno che se gira mi guarda e fa finta di niente dice ma che è successo? ora non me ne voglia magari qualcuno di voi anche ce la regala dormo generalmente con una maglietta regalata da qualcuno che viene in radio a trovarti sai quelle cose ti ho fatto ah bella e tu pensi con questa c'è dormo no maglietta quella deve essere comodo con questa c'è dormo sotto queste magliette terribili però forse sono ancora più contenti nella tua intimità del letto tu c'hai una cosa loro comunque diciamo d'estate boxer e maglietta no d'inverno dormo col pigiama bello ma senza mutande non va portato fa male che ridi è vero il pigiama la notte se porti il pigiama non dovete portare mutande perché l'elastico fa male vedi vedi che poi escono a fare cose interessanti quindi anche diciamo peta copo con il personaggio era interessante no poi ce n'ho ce n'ho altre no lui si diceva un po' alla volta perché c'era delle pallottole comunque è caduto l'occhio ho letto calcio sulle palle vi dico solo questo questo se vuoi la facciamo quella facciamo su questa 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 è una mia grande curiosità che chiedo sempre ai miei amici però attento la maestra secondo te è meglio una martellata sui dita o un calcio sulle palle cioè seriamente se devi per forza una di queste due la devi prendere poi dice ma non vai mai ospite nei podcast no per forza non lo so posso esclamare quello che voglio in tutti e due i casi allora diciamo per piacere il calcio sulle palle la martellata se proprio non si può fare differentemente ma non si può dire te la martellata sulle palle così uniamole vabbè grazie magari oggi io suono di meno il tasto no 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 è sempre un bel momento senti restiamo ancora nella parte dell'infanzia noi facciamo questo gioco in cui siamo convinti che le maschere di carnevale che ci mettevano da bambini in qualche modo hanno influenzato quelli che saremmo diventati e abbiamo iniziato per scherzo poi in realtà ci siamo resi conto che questa cosa ha un suo peso ti mascheravano a te da bambino e ti ricordi un costume speciale che ti hanno messo allora il primissimo costume che io ho avuto è stato quello da Actarus il pilota di Goldrake fatto di panno lenci solo il problema era il casco ragazzi il casco era fatto da un cartone del Pandoro Bauli con gli occhi ritagliati e io ricordo mia madre che mi porta a giocare al giardinetto e fa Gabriele perché mia mamma è tutta forbita professoressa milanese Gabriele mettiti il casco casco di cartone e poi una volta con il mio miglior amico mi mascherai da Terence Hill io e lui da Buzz Spencer ci sono delle foto a testimonianza puoi condividere qualcosa ci piacerebbe recuperare c'è questa cosa che non è proprio una maschera per farvi capire come siamo cresciuti io penso che noi che abbiamo fatto questo genere di infanzia non ci spaventa niente io a volte quando assisto a delle discussioni a delle cose di gente preoccupata dico Beato te veramente sei nato e cresciuto in una maniera io mi ricordo che appunto non mi è mai mancato niente mio papà era operaio si è laureato rilegando i libri la notte è diventato ingegnere è diventato uno dei massimi esperti di infrarosso in Italia io a due anni vivevo a Princeton lui insegnava in America quindi ha avuto una carriera incredibile però chiaramente nessuno ci ha regalato niente e quindi io ho una sorella più grande di tre anni che è archeologa che mi somiglia molto però che succedeva che il passaggio dei vestiti non si poteva far quindi mi facevano crescere sti capelli lunghi lunghi e mi vestivano da bambina e io andavo in giro ma che bella bambina io sono maschio sono maschio quindi non so se puoi rientrare nel travestitismo anche questo ci rientra anche questo assolutamente eppure questo è un trauma che abbiamo capito c'è un cappotto tra l'altro io ho inventato il gender fluid l'abbiamo inventato noi da anni 70 cioè io c'avevo il cappotto di mia sorella rosa ma proprio tranquillamente pure lì ci piacerebbe vedere delle foto nel caso ci fossero sono tutte bianche e nero no giuro giuro quindi c'è rosa non si vede no non si vede però me lo ricordo diciamo come imprint feste in maschera oggi io io sono un grande fan della maschera se è dichiarata se è dichiarata sono un grande fan chi è che c'era il ragazzo che dice ho fatto dieci cartoon party io ricordo sempre quest'episodio appunto che mia moglie mi vede ballare cioè quella che sarebbe dettata mia moglie mi vede ballare con la tutina di occhi di gatto io che mi struscio con Giorgio Furio e fa io quello forse me lo sposo quindi io l'ho detto subito di lei io appena l'ho visto ho detto quella lì me la sposo neanche ci avevo parlato quindi grosso rischio l'ultimo l'ultimo cartoon party che hanno l'avate fatto al gay village se non sbaglio si bravissimo bravo è stato il gay village credo a me io sto a dire a me me l'ha vestito da Dinolfi non so se ve lo ricordo no non me lo ricordavo però è bello Dinolfi è bello è bella maschera sì credo che sia stato 8-9 anni fa ormai il tempo ragazzi uno dice ah questo pezzo è del 2004 sono passati 19 anni voglio dire per carità senti restando un attimo al tema Roma sì anche invece avendo un approccio un po' più serio come hai visto cambiare la città negli anni nel senso che Roma vivi adesso come la percepisci quanto è diversa rispetto a quando eri bambino quali sono le cose che ti mancano di più guarda io lo dico con grande dolore perché non voglio fare lo sport di quelli che parlano male di Roma io Roma la vivo Roma la amo ed è per questo che mi arrabbio molto io penso che una città che sia peggiorata come Roma difficilmente la trovi in Italia ho lavorato negli ultimi anni moltissimo tra Milano e Napoli due città che sono completamente cambiate si sono trasformate e sono nettamente migliorate Napoli è rinata secondo me perché e forse la colpa è anche nostra cioè io ricordo sempre che ci sono i secchioni dell'immondizia abitano una zona molto turistica quindi sempre piano ogni tanto prendo una roba la butto dentro c'è sempre qualcuno che fa e no mi godevi a te ho capito ma se sta per terra eh no quello ci dovrebbe pensare in tenza urbana perché se tutti si mettiamo a pulire ho detto ho capito però io ogni tanto esco e spazzo il marciapiede perché mi fa schifo e penso che comunque ci può anche stare che non funzionino le cose quello che non ci sta secondo me è che la Roma che forse abbiamo amato e che conosciamo tutti è la Roma del vieni vieni più vicino a me c'è posto c'è Napoli è così qui siamo diventati anche una città intollerante ce l'abbiamo tutti contro tutti allora voglio Zurico cioè se non funziona niente ma ci guardiamo ancora con un sorriso e con tolleranza va bene se non funziona niente io una volta andando in radio ho visto due persone alle 5 del mattino di febbraio sotto la pioggia la Cristoforo Colombo a vuota che si picchiavano io volevo fermarmi e dirgli adesso ne parliamo cioè quando è il momento che sotto la pioggia siete scesi vi siete messi a menare o vi siete dati appuntamento perché allora c'è un senso cioè Roma non so se vuoi ma è una città in cattività è piena di gente c'è gente che ti risponde sempre malissimo c'è di gente che ti scavalca per terra sai io adesso c'è mia figlia che vive a New York tutti quanti sono di New York ma New York non è vero mia figlia si è sentita male in metropolitana l'hanno soccorsa in 10 quindi se persino New York che era una città avara di sentimenti ci ha superato signore signori qui abbiamo un problema e il problema credo che siamo oggettivamente noi poi lasciamo stare voglio dire l'amministrazione che mi sembra che non vediamo luce mi dicono che c'è un sindaco adesso se vede non se vede adesso il nome mi sfugge è nologramma è evanescente senti a proposito di sindaco domani ti svegli sì e sei sindaco di Roma e non ti puoi dimettere qual è la prima cosa che fai? tipo il girone d'inferno un stadio da Lazio scherzo no faccio una cosa semplicissima mezzi gratuiti per chi non può permetterseli semplice semplice e tu dici come facciamo? vabbè un sistema si trova il problema è che non ti portano a nessuna parte tu gli dai gratuiti partiamo da quel tanto ti fai il cissà e entri tanto via d'abbonamento esatto dai un'occhiata così un'occhiata così e poi magari cerchi di far capire che con la cultura ci mangi adesso io parlo di questo caso ma non perché voglio ma perché lo conosco che poi tu dici ma pensa in America tutti i cinema tutti i cinema il martedì per tutti costano 3 dollari cioè questo vuol dire che cosa vuol dire? non solo che il cinema guadagna ma che tu vuoi vedere un film e ti fai oh Ale ho visto un film fighissimo vattelo a vedere e magari si permette di andare al cinema gente che se no diciamoci la verità adesso bellissimo al cinema è una famiglia 4 persone il cinema poi papà prendiamo i pop corn io mi ricordo questa cosa andavo due volte a settimana quando eravamo una coppia io e mia moglie al cinema quando sono nati i figli tu devi prendere la tata no? quindi prendiamo la tata poi dice non ma fa l'aperitivo che non lo famo mai quindi l'aperitivo poi i pop corn cos'è? se cantavi il film sponzata rovinati non è che dici mo ci torniamo venerdì no mo ci torniamo per mese prossimo e poi sai quelle cose tipo amore ti piace? no però vediamocelo tutto ormai dai ormai sì sì vediamocelo tutto ti ricordi un film che non ti è piaciuto di questi? ho voglia adesso dico una cosa Mulholland Drive non me lo scorderò mai di Lynch ragazzi non mi piace proprio una roba gente che eh lo so mi spiace impazzisce no però è bello che tu invece ci porti ma tipo tu te alzi e te ne vai oppure continui allora no me ne sono andato oppure dormi no ogni tanto mi abbiocco no da poco e forse il simbolo veramente che sto diventando vecchio smetto di leggere i libri se non mi piacciono che è raro questo è rarissimo invece smetto io neanche inizio lo so almeno almeno no ma non me ne vanto Danilo non so se hai capito la risata ma era un si sente sì no no si capisce quello che ci piace fare a Decore Podcast è chiedere all'ospite che ci viene a trovare una sua playlist Decore non abbiamo detto che cos'è Decore magari c'è qualcuno che ci segue per la prima volta Decore sono tutte le cose che ci fanno stare bene quelle cose che mettiamo che ascoltiamo che leggiamo che vediamo quando vogliamo un po' di conforto quelle cose che diciamo ritornano nella nostra vita e anche la musica è una cosa che ci coccola e ci culla abbiamo chiesto a Gabriele qual è la tua playlist Decore ci ascoltiamo insieme un pezzetto dei brani che lui ci ha detto e ti chiedo perché come diciamo io poi l'ho messo come primo brano perché mi sembrava giusto per entrare in questo contesto hai scelto Blackbird e The Beatles Blackbird e The Beatles perché io dico sempre lo dico anche a Don't Forget The Lyrics che la musica secondo me ha un potere evocativo se avessi letto un libro tipo Proust ste robe qua no? cioè ti spiega che la Madeleine il dolce non è mai il dolce non è mai il sapore è quello che evoca cioè il piatto buono come le polpette che ti fa mamma la domenica non lo troverai in nessun ristorante stellato e quindi per me stare nel sedile dietro della Citroen Palace di mio padre mi portò in viaggio per l'Europa mi fece fare questo viaggio per l'Europa mettendo solamente pezzi o dei Beatles o di Lucio Dalla o di Pavarotti quindi stare dietro e sentire questa canzone è la mia comfort zone cioè secondo me stare dietro quando tuo papà guida è il momento in cui ti senti più sicuro al mondo tant'è che questa canzone spessissimo io la sento prima ad andare in scena anche soprattutto nel passaggio in cui dice hai aspettato tutta la vita per volare e penso che insomma sia la parte più bella e poi secondo me è un pezzo non famosissimo famoso per casi e per carità però non è proprio quello che tu vai in una serata cover e te lo cantano e trovo che sia bellissimo stiamo facendo facciamogli un applauso perché ai Beatles è giusto questo gioco di andare a vedere sotto i video delle canzoni scelte dagli ospiti il commento più votato sotto il video di Blackbird dei Beatles che è un video che ha decine di milioni di views e di ascolti c'è un commento che ha 10.000 like adesso sentendo il pezzo farete caso al fatto che c'è un suono un ticchettio di sottofondo che si pensa che fosse il piede che tiene il tempo e il commento più votato non è una cosa che è sicura c'è chi dice che è un metronomo c'è chi dice che è il piede che tiene il tempo il commento più votato dice chiunque stia suonando il piede è un musicista incredibile e il pezzo è questo qui Decore Podcast da Riverside di Roma siamo con Gabriele Corsi il primo brano della sua playlist Decore è Blackbird dei Beatles è un brano magico guarda voglio citare questo episodio perché poi dopo parliamo un attimo dei Beatles perché quest'anno ho avuto la fortuna di fare l'Eurovision a Liverpool anzi lo dico subito la cosa che mi ha sconvolto dei Beatles è che hanno fatto quello che hanno fatto in un brevissimo lasso di tempo ed erano delle persone molto quasi semplici il pianoforte su cui John Lennon ha composto Imagine è a Strawberry Fields che era un orfanotrofio ed è un pianoforte bianco il pianoforte è completamente bianco solo che ha delle parti nere ai lati e io ho chiesto come mai mi hanno detto perché lui quando scomponeva fumava e poggiava le sigarette qui ci sono le bruciature delle sigarette dicevamo di Blackbird mia figlia prima di partire per l'America ha detto ha fatto un concerto per salutare gli amici ha detto voglio fare la canzone che è più importante per mio padre lasciargli questo ricordo Arianna la moglie di Danilo nel silenzio della sala ha detto mo canta vaffanculo dei masini non ricordo il romanticismo senti è di famiglia per fortuna ha spezzato il momento di tensione senti entriamo nella parte invece che ci parla del tuo percorso artistico e della parte prima dei film ne abbiamo parlato nell'introduzione ci piacerebbe invece che ci raccontassi un po' quello che ti ha portato a fare quello che sei oggi cioè noi ti vediamo come un conduttore e noi ci spingiamo anche a dare fare dei commenti molto personali qui a Deco secondo noi tu sei un bravissimo conduttore si percepisce che tu sei molto preparato hai molta energia hai ritmo si vede che c'è uno spessore che molto spesso in televisione non si vede e questo non è per fare i complimenti all'ospite che ci viene a trovare perché altrimenti non te lo diremmo ma lo pensiamo come ci sei arrivato a questo punto perché condurre l'Eurovision Sound Contest condurre Don't Forget the Lyrics Take Me Out tutte le cose che hai fatto che hai fatto e che le hai fatte bene come ci sei arrivato perché adesso uno ti vede tu sei un professionista fatto e finito molto preparato come ci sei arrivato a questa cosa qua se ci vuoi fare due battute sulle iene due battute sul tuo percorso tu dici a parte lo zio cardinale esatto a parte le raccomandazioni ma soprattutto perché non hai perché non hai mai presentato un programma con un nome in italiano che io c'ho sempre guarda perché io poi a me mi fa no a me mi fa un sacco piacere a me mi fa un sacco piacere fare le storie a Gabriele perché mi piace proprio in cui pubblicizzo i suoi programmi ma c'ho un grosso problema dei pronunci perché Don't Forget the Lyrics Take Me Out Deal With It Deal With It è tutto così l'altro l'ho chiamato ma uno in italiano questo qui canzonissima lo farai allora il problema di questi format l'ho raccontato è che non puoi cambiare il titolo perché sono format internazionali quindi sono diciamo da catalogo poi cerchiamo di adattarla dal gusto italiano però il titolo è quello là guarda con Giorgio e Furio noi già facciamo la radio eravamo a Radio Capital fummo cacciati da Radio Capital o meglio nessuno ci disse niente quindi cioè non ci hanno rinodato il contratto ma senza dirci il contratto riscateva e allora siccome Nicola Savino ci aveva visto passeggiare e disse ma quanto sono brutti quei treni possono andare bene per le iene noi ci siamo presi abbiamo preso un treno e mi ricordo che abbiamo perso la metropolitana e quindi abbiamo pagato il taxi e avevamo i soldi contati proprio all'osso e quindi non abbiamo mangiato la sera correndo per riprendere il treno per tornare a Roma perché andiamo e tornavamo e abbiamo proposto un'idea a Davide Parenti che è l'autore capo delle iene e lui non lo scorderò mai disse una cagata del genere non l'ho mai sentita quindi abbiamo detto mi sa che non è andata benissimo a occhio non è andata benissimo e invece poi credibilmente dopo un po' di tempo ci richiamò un autore capo autore romano per proporci di fare delle cose con lui e da lì è iniziata la cosa delle iene grazie anche a un fortunoso e fortunato incontro con Vittorio Sgarbi che come dire ha lavorato per noi fondamentalmente perché per un periodo mi ha chiamato e mi diceva sono tuo padre ma infatti piccola parentesi che rapporto c'è adesso con Vittorio no adesso è tantissimo non ci sentiamo no vi faccio una confessione con il vidente e il decore anche qua dopo che ci fu tutta la fer culattoni raccomandati ma anche anche il capra capra era comunque nato sì sì però lì già era uno sgarbi crepuscolare a me non era lo sgarbi che piaceva quello che impazziese confiava la vena quello del culattoni raccomandato il video è andato da riprendere uno dei momenti più alti no veramente è una cosa chiamo con falonieri c'è tutto ma mentre succedeva quella cosa cioè il vostro sentimento come era voi stavate godendo siccome era uno dei primi dopo stavamo ogni volta che impazziva noi capirai ci abbracciavamo in quel momento siccome erano dei primi servizi noi ridevamo tant'è che a un certo punto l'autore diceva basta perché noi diciamo ma questo che voda noi poi noi ne mancheravamo lì per lui quindi lui e mi ricordo che era una serata sulla donazione una cosa del genere e lui ci appellò come donatori di buco di culo che io dissi però c'è della fantasia in questo insulto e noi ridevamo però eravamo cioè come dire noi siamo sempre stati un po' come dire degli alieni della televisione ma questo è in tutta cioè c'è ci ha interessato anche poco diciamo la verità perché se no avremmo avuto un altro percorso artistico cioè si è sempre andato bene fare quello che facevamo come lo facevamo perché ci divertivamo ecco una cosa bella di noi tre che abbiamo sempre fatto le cose sia per Rai 1 che per il cartoon party quando c'è 10 persone con lo stesso impegno la stessa professionalità ed è la cosa che dico anche sempre mia figlia non importa se ci sono due persone 10 persone 50 devi dare sempre il massimo e il rispetto però poi il resto sinceramente tutto il resto il cotecce fregava pure poco cioè mi ricordo che abbiamo vinto sei anni l'Oscar della l'Oscar della tv e ci invitavano e noi dicevamo ma dov'è sta cosa a Sanremo no ma non venimo a Sanremo perché eravamo anche pigri capito ma non per per spocchi o per essere snob che non ci andava proprio e quindi da lì insomma siamo esplosi poi dopo 10 anni abbiamo fatto 500 50 pezzi le iene stavano già diventando un altro tipo di programma cioè quando tu vedi che i politici invece di scappare si avvicinavano cioè a noi ci piaceva rompere le palle non ci piaceva essere parte di un meccanismo che giustificasse anche la diciamo questo aspetto ludico no? calcolate che prima davanti al Parlamento c'eravamo solo noi cioè la gente ci diceva ma voi non avete preso l'appuntamento per parlare con l'onorevole io mi ricordo sono stati anni esaltanti perché eravamo proprio dei picari eravamo dei dei pirati io mi ricordo il primo anno a Sanremo nessuno sapeva chi fossimo a Sanremo perché facciamo questo programma che era calta ma per un tipo di pubblico mi ricordo che noi chiedevamo gli accrediti diciamo siamo le iene e qui diciamo scusa che rivista perché pensavo dopodiché infatti abbiamo capito e mi ricordo che facciamo degli accrediti tipo randaggi e segugi se inventavamo delle testate poi hanno capito e pure lì non ce l'hanno più data dopodiché noi abbiamo continuato a fare la radio e e a un certo punto mi chiama Eugenio Bonacci che è uno insomma diciamo dei responsabili di Freemantle Freemantle è la società che produce anche X Factor e mi disse guarda vogliamo proporti di fare take me out questo programma per real time così no in realtà fare la zero perché non ero solo io erano 3-4 conduttori e io gli dissi vabbè guarda non lo so e lui venne a casa mia a propormelo cioè sempre questo atteggiamento che uno pare capito e lui mi disse guarda non lo so ma come diceva c'era 30 ragazzi diceva no però non guardare la serie americana la versione americana era veramente diciamo borderline io mi ricordo che ne parlo con mia moglie gli dice guarda sai ma non posso sta roba e lui dice guarda se c'è qualcuno che lo devi fare fallo tu ora chiaramente i tempi sono cambiati però io l'ho rivisto a parte che mi divertivo tantissimo però cioè non è un programma era un programma che era un fumettone piacevole a me era un gioco cioè non è che tu lo devi prendere mi ricordo che una volta in conferenza stampa uno disse ma questo programma si propone di trovare veramente l'amore io disse ma sei scemo l'ufficio stampa sotto io ma no noi siamo tutti orfani di take me out perché un programma che ha funzionato così tanto e che è piaciuto a tutti non è continuato beh perché credo che ci siano dei cicli e secondo me è anche giusto cioè io poi dopo un po' penso sempre che sia giusto cambiare i programmi adesso a dicembre cominciamo un'altra edizione di Don't Forget The Lyrics che è però un programma un po' particolare perché karaoke il mio ruolo è tutto sommato defilato e funziona molto bene però stiamo già testando altri format cioè io non riesco a fossilizzarmi su una cosa ho bisogno di fare altro e poi magari anche non fa niente dopo un po' cioè la mia idea era anche quella 50 anni di sai che c'è uno può anche bastare non è che devi per forza fare questo lavoro ma in tutti questi successi o questi comunque programmi che hanno avuto successi qualcosa non è andato bene cioè i tuoi programmi ce l'hanno chiusi quindi non è che tutto funziona hanno chiuso pochissimi programmi uno di questi c'ero io credibile ma vero io in televisione due programmi ho fatto hanno chiusi tutte e due e ora non so se per colpa mia perché io sono l'ultimo che ha fatto Extra Factor che è il programma che andava dopo X Factor non è che hanno chiuso solo quello non l'hanno proprio più fatto quindi e vabbè è così l'altro però ti qual è la cosa più strana che hai presentato anche magari una sagra qualcosa che ti ricordi beh tante cose devo dire che da Romani andare a fare il festival della bagna cauda ad Asti è stata una bella sfida io non sapevo manco che era la bagna cauda ma avete fatto quel festival avete presentato oppure erate presentato 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 dando la ricetta della bagna cauda che io non conoscevo quindi quelle cose l'aglio ma io non lo digerisco l'aglio il festival della bagna cauda tra l'altro è una figata assurda molto divertente però tra una portata e l'altra ti porta nel dentifricio per farti capire quanto perché a bagna cauda sono solo alici e aglio e poi mi ricordo sempre di quella festa lì che poi chiaramente abbiamo come dire un po' ecceduto con la zona di grandi vini e io dormiamo in questa residenza storica incredibile bellissima e io sono entrato e ho urtato un tavolo rompendo una lampada e ho detto ci penso domani mattina poi ho acceso la luce e ho visto sta stanza che io con i caravaggio dici che ho rotto e io ho detto sono andato alla reception e ho detto signora ho rotto ho rotto una ha rotto la lampada gliela ripago non credo possa permettersela infatti io ho detto vabbè allora posto così amici come prima non credo possa l'hanno rincollata non lo so però sai quelle robe mi sa cinesi adesso ci stanno le lampade quelle cinesi capito sì no questa è un programma che un po' invidi che ti piacerebbe fare cioè dici io vorrei proprio quello è un mio amico fraterno Francesco Panella ma io Little Big Italy glielo invidio tantissimo viaggi e magne bomba Francesco hai vinto potreste per Little Big Italy voglio di più molto di più lo so pure fa potreste fare uno scambio cioè una stagione lui si fa Don't Forget The Lyrics siamo talmente tanti amici che stiamo pensando qualche cosa da fare insieme perché tra l'altro ci somigliamo molto siamo veramente due fratelli separati alla nascita attiviamo la stessa squadra ci vogliamo bene poi lui ha questo ristorante a New York dove ogni tanto io mi accollo perché così è certo poi è bello nel ristorante degli amici fai sempre il gesto lui no 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 stavolta insisto che vuoi pagare invece però vabbè poi seriamente ti piacerebbe presentarsi a Sanremo guarda visto che hai fatto allora secondo me hai fatto l'Eurovision non fai un programma che parla di musica cioè secondo me a chiusura del cerchio sarebbe quello allora il problema se ti dicessi di no cioè certo chi fa questo lavoro ma certo che vuole presentare certo che gli piacerebbe presentare Sanremo io temo molto tutto quello che c'è prima e dopo cioè io quando sto su un palco sto bene ma quello che c'è prima cioè capito se c'è un gruppo di lavoro che si è rilassato per esempio stare a Discovery vuol dire io ogni tanto chiamo il direttore per sapere quanto abbiamo fatto e lui mi dice aspetta non mi informo e te lo dico cioè l'atteggiamento è quello che non è importante e quindi è una cosa poi importante perché chiaramente da quello dipendono gli investimenti però non c'è quello stress io mi ricordo c'è che ho fatto dei programmi veramente che sembrava se facevi mezzo punto di meno era una roba che veramente dove era un dramma un disastro insomma mi sembra come dire eccessivo poi è bello perché quando fai ascolti arriva c'è t'ho detto che t'ho detto che t'ho detto poi fai mezzo punto ma è acceso sì il cellulare sai quelle cose ma non prende niente il silenzio tutti scomparsi nel frattempo vi annunciamo che grazie a voi che siete qua qualcuno che ha inserito nel deep web qualche smanettone non c'è più ex su wikipedia di Gabriele Corsi Gabriele Corsi è anche un attore italiano quindi farà Alex Lariete 2 io c'ho il cofanetto golden perché c'è un gruppo che fa una proiezione tutti gli anni c'è un gruppo di Alex Lariete comunque la cosa bella di wikipedia è che una volta ho provato a modificarlo io come Gabriele Corsi e ho tolto ex mi è arrivata la mail e sa quella lì non ha i criteri sufficienti infatti potrebbero rimetterlo nel senso loro accettano le modifiche sono da utenti registrati che spesso danno dei contributi alla piattaforma e soprattutto una cosa che odiano è quando percepiscono che sei tu stesso che ti stai facendo ma se non lo so io devo dire che una volta poi in radio era partita sta ridendo non so perché che io ero il Will Smith italiano e quella è rimasta lì per un periodo però l'ho tolto subito sulla pagina di Will Smith è il Gabriele Corsi americano a me c'è la rida anche qui e quando vai in giro a proposito di Will Smith ti scambiano per Will Smith spessissimo qual è per chi ti scambiano Gabbani 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 ogni tanto poi non così tanto pure Capitan Ventosa Capitan Ventosa a meno ogni tanto mi fa ridere perché ci sono quelli che fanno lo sai tu a chi somigli al mio fiscalista no c'era un periodo che dicevano che assomigli a Capitan Ventosa perché no non quello da adesso quello diciamo originale quello originale che io io c'ho sempre avuto questa cosa delle inchieste Capitan Ventosa che comunque le persone lo chiamavano per una cosa seria una cosa serie proprio e ti arrivava questo con la tutina gialla con imbuto in testa e dici cazzo ma c'ho problemi c'ho problemi seri no devo dire che per fortuna adesso ha tagliato i capelli ma per esempio il periodo in cui c'era i capelli corti con Brad Pitt era un casino ragazzi ho sentito delle risate femminili molto pronunciate che non sono assolutamente accettabili dopo 25 puntate mi sono un po' danilizzato e quindi ho cercato una fonte di un certo livello di un certo spessore perché mi piace che nel senso mi chiedo ma perché se cerchi Gabriele Corsi su internet una delle prime testate che parla di lui è DonnaGlamour.it e allora mi chiedo cosa dice DonnaGlamour.it parla pure di me DonnaGlamour.it è l'unica testata che parla di me almeno lui ha altri articoli e questo ci dice tanto DonnaGlamour.it fa un articolo che dice 5 curiosità su Gabriele Corsi è interessante vediamo se sono vere pensa che oggi in radio ho parlato di 5 curiosità sui Koala invece quella sempre di DonnaGlamour.it chissà se fanno le stesse cose Koala e Gabriele vediamo se c'è qualcosa che l'hai già letta te per casa non frequenti queste no poi perché mi arriva una rassegna stampa che è abbastanza diciamo schizofrenica sei mai finito su un giornale di paparazzi per qualcosa no perché non ce l'è no non ho una vita talmente però te vedrai col costumino un po' calato dietro no ci ho provato ma non mi non sono prima curiosità su Gabriele Corsi non è per costumino che è per costumino no guarda che però no su uno yacht te immagino a ossea su un pedalone certo infatti no io posso dire che questi risolini femminili sulla mia mascona non vanno bene no non vanno bene scusa no torniamo a DonnaGlamour.it non tutti sanno che prima di diventare il trio Medusa i tre anzitutto amici durante una vacanza estiva trascorsa insieme il gruppo ha costruito un'emittente radiofonica amatoriale con cui si divertivano anzi dice si divertiranno perché comunque sono sbagliati anche i verbi a coprire in tardanotte le frequenze di Radio Maria con giochi e scherzi è corretto va bene non si è inventata un cazzo DonnaGlamour insomma è una storia che è risaputa è una storia risaputa in realtà non che volessimo trasmettere solo le frequenze di Radio Maria abbiamo trovato una frequenza libera che ci sembrava abbastanza poi dopo abbiamo capito che copriamo Radio Maria ma abbiamo detto vabbè ma mezzanotte e mezza ma chi ascolta Radio Maria? tutti tutti tra l'altro mi fa impazzire la programmazione di Radio Maria l'avete mai letta è bellissima ore 20 la Santa Messa ore 21 replica ma come? vabbè se stasi per e poi vai in onda su tutti i citofoni d'Italia 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 è più ascoltato seconda curiosità è tifoso della Lazio è correttissima poi ha raccontato che Gigi Proietti incontrato durante le riprese del maresciallo Rocca gli disse quando sei triste scrivi un sonetto è vero ma su Donna Glamour è vero quasi sono impegnati però questo però non ce l'hai detto prima cioè quando sei triste scrivi un sonetto sì e l'ho fatto e l'ho fatto è vero cioè mi disse che la tristezza era diciamo doveva essere catalizzata poi disse non lo devi far leggere non lo devi far leggere però scrivi ed è vero l'ho fatto è verissimo altra curiosità ha dichiarato di essere agnostico corretto ammazza vedi Donna Glamour questo è un portale di un certo livello anche se ho fatto il corso per diventare frate corso vocazionale per diventare frate francescano e che età avevi quando hai fatto questo corso 18-19 anni ma in che consiste il corso niente vai tipo ti fanno provare sai o no vai il ritiro spirituale tipo fai 100 metri chissandali no poi io io mi ricordo che andai lì perché preso da questa cosa della vocazione di sì così ne parlo con qualcuno vai in questo posto bellissimo ad Assisi che è la la chiesa Santa Maria degli Angeli dove c'è la Porziuncola e accanto c'è questo convento e io arrivo lì c'è tutti questi frati francescani dico no eh e adesso entriamo in riflessione quindi per i prossimi tre giorni non parliamo io andavo lì per parlare per dire quindi come come non ne parliamo neanche dopo un giorno diciamo che poi fammi stare zitto è complicato comunque ci sei andato sì sì sono stato una settimana sono una delle cose più folli che hai fatto sì abbastanza abbastanza però è stato interessante ultima curiosità dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021 si è spogliato in diretta tv insieme a Cristiano Malgioglio sì non pensavamo di vincere io l'ho buttato a lista roba qua siamo rimasti in mutande mi ricordo che il primo messaggio che ho ricevuto dopo la vittoria dei Maneskin è stato di Fiorello che mi ha detto la battuta più bella eri te che salutando gli ho detto saluto era preparata ci ha visto lungo io ti dico di più che a un certo punto c'era il manager di Cristiano che si chiama Fabio una persona di delizio che mi ha detto scusa Caprile ma che mutante c'hai le classiche mutanti diciamo insomma tipo omissimo no così ma quello è un brand e mi ci ha messo la bandiera e mi ha detto dammele che ti circucia sopra la bandiera che metti che si vedono che c'è un brand e figurati perché il problema non era che stava un mutante su Rai 1 se si vedeva la marca capito questa e quindi ho ancora le mutante perché sulla Rai fanno queste cose il marchio non si deve vedere se tu vai tipo con le scarpe della Nike loro il baffo lo fanno diventare tipo un cerchio ma se vede che è un baffo ancora peggio quelle dell'Adidas che coprono con tre pezzi di nastro comunque tu quello era il primo Eurovision che presentavi sì quello è il primo Eurovision comunque tu al primo l'Italia ha vinto sì quindi beh è andata bene è andata benissimo con i Maneskin c'è un rapporto di qualche tipo io guarda ho scritto prima della vittoria dell'Eurovision me l'ho scritto con Victoria chiedendole come voleva che pronunciassimo il nome quindi io c'è questo audio che diceva per favore dite Maneskin se potete dite Maneskin che poi allora va bene anche Maneskin però magari Maneskin ma un po' chiusa Maneskin Maneskin perché sarebbe sì Chiaror di Luna in danese che già è difficile a Roma è proprio un po' serio ma i Maneskin infatti il problema diceva non basta che si è Maneskin capito questa roba qui e poi vabbè poi ho fatto Torino e ho fatto Liverpool veramente insomma tre che c'è e il prossimo andiamo avanti senti prossimo dove fanno fanno a Malmo chi lo sa senti passi tu lavori tantissimo poi io so i tuoi racconti anche attraverso Danilo che comunque è vero lui quando parlava è tipo possiamo dire è bionico solo oggi possiamo raccontare io oggi ho fatto una giornata con Gabriele Corsi cioè noi oggi abbiamo registrato il radio abbiamo fatto la puntata siamo andati via dalla radio siamo andati alle 10 abbiamo preso un taxi per andare a Fiumicino a mezzogiorno l'aereo siamo andati a Milano abbiamo registrato il video della canzone di Natale di Radio DJ mezz'ora di taxi mezz'ora di taxi per arrivare sul set 10 minuti per girare 10 minuti video di 10 minuti poi siamo ritornati in aeroporto direttamente senza mangiare senza niente anzi Gabriele mi ha fatto scroccare l'area business di Ita quindi io ho mangiato perché io sono l'uomo delle card io prendo tutti i punti di tutto io ho tutte le card del mondo quindi io faccio a me se mi chiedevano io ho quella della Conad ma certo no no io sono quella io pure Carrefour l'avete preso i premi degli Avengers sì io ho tutti i premi degli Avengers ma che siete matti ragazzi siete tutti nati ricchi io non capisco i punti si fanno sempre le carte fedeltà sono importanti comunque poi siamo tornati a Roma e da Roma siamo noi direttamente qua e questa è una sua giornata media io sto morendo dentro no no non è sempre così anche perché ho rallentato molto però sì però lavoro tanto se invece un giorno hai una giornata totalmente libera come la passi mattina pomeriggio e sera quali sono le cose che ti piace fare quando sei relax in riposo un diciamo un corsi privato inedito a parte viaggiare tanto mi piace viaggiare tanto mi piace viaggiare sarò come dire poco interessante ma mi piace viaggiare con mia moglie perché soprattutto adesso che i figli sono grandi abbiamo ritrovato sempre una diversione perché ridiamo un sacco ci divertiamo un sacco poi mia moglie insomma uno se la immagina anche professionalmente così no molto inquadrata mentre invece a casa quella diciamo che fa più casino è lei io a casa sono un po' più noioso sono un po' più secchione quindi magari faccio un'oretta di box che mi piace tantissimo mi scarico poi posso mi piaceva tantissimo c'era un vivaio vicino alla radio che adesso sono visto mi piace tantissimo andare a leggere i giornali una vita regà rock and roll e il giornale dal vivaio no poi mi piace leggere mi piace scrivere mi piace ascoltare la musica io appunto mi piace un vinile scrivo sto scrivendo un libro questo insomma perché ho sognato una persona alla quale avevo promesso che avrei scritto un libro a distanza di vent'anni recentemente questa persona mi ha appartenzione mi ha detto ma il libro non l'hai più scritto e allora sto scrivendo un libro su un'esperienza di vita che ho avuto poi non è importante che lo pubblico oppure no lo sto scrivendo per me perché era una promessa che avevo fatto quindi dovremmo anche aggiungere scrittori sopra sì anche se in parte è già realizzato perché è uscito un libro sulla storia del triumet due due quindi in realtà in beneficenza lo dico cioè in beneficenza se no e questo libro che stai scrivendo o che vorresti scrivere è un romanzo o un saggio no è la mia storia personale al manicomio quando ho fatto il servizio civile io ho fatto il servizio civile al Santa Maria della Metà che era il manicomio e poi mi sono spostato in una comunità che si era Progetto Giuseppina e il libro inizia come proprio inizia la mia storia lì io comunque sono sempre stato io sono marchese cioè mia nonna mi ha lasciato questo titolo io poi non ho mai pagato la società araldica però mi fa molto ridere che il nome completo è Gabriele, Maria, Fausto, Giuseppe, Corsi, Generoli, Cristiani, Marchese, Flores, Darkais, Sangueto, Filatto Lele Lele non c'è niente in ereditata hanno lasciato un cavallo no mia sorella c'ha il bastone del marchesato una roba del genere però c'è lo stemma c'è lo stemma l'armatura c'era addirittura ma poi tutta roba che c'è nella vita a parte cazzeggiare non mi è mai servita sta roba qua quindi figurati e quindi io mi ricordo che c'è un paio di scarpe belle le superga io arrivo con queste superga in questo progetto che ospitava dei genti ex cioè ex dei genti del Santa Maria della Pietà io vedo questo signore distinto col gira gli dico scusi stavo cercando e questo me guarda e mi vomita sulle scarpe scusi stavo cercando sulle scarpe bianche superga bianche poi superga si macchiavano subito subito ma io un paio c'ero bianco e questo è stato il mio primo giorno e io ho detto impazzisco e invece è stata l'esperienza più bella della mia vita cioè sono lì sono cambiato completamente perché ho imparato la tolleranza ho imparato ho imparato anche il fatto che una cosa che ho imparato che la visione del mondo è veramente molto personale mi piace dirlo in questo podcast che si chiama Decore cioè che veramente il mondo è come tu lo vedi Decore c'era questa signora a cui era dedicato il progetto che passava la giornata dicendo lo vedi lo marito mio lo vedi lo marito mio e io passavo i primi giorni a dire ma non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno e poi chi ero io per dire che non c'era quella persona se per lei era così chiaro e quando abbiamo cominciato a parlare di questo marito abbiamo cominciato a instaurare un rapporto e nel libro poi appunto mi piacerebbe raccontare poi anche il fatto che la malattia mentale insomma è sempre vista anche come qualcosa di romanzato io mi ricordo questa frase che mi ha detto uno degli ospiti che mi ha detto guarda che essere matti fa schifo cioè anche questo mitizzare essere come dire ah che figo essere pazzi no è così invece è proprio difficile abbiamo questo signore di Civitavecchia che stava bene 25 giorni al mese e 5 giorni impazziva e soffriva tantissimo cioè lo vedevi che soffriva e quindi a un certo punto siccome questa signora che era stata in carcere lo dico carcere mi è venuto spontaneo a dire carcere perché il Santa Maria della Pietà il manicomio aveva le sbarre e lei ha passato 8-9 anni quasi sempre legata al letto quasi sempre legata e nel 98 dal 78 era legge basale nel 98 era cominciato a chiudere i manicomi in Italia infatti ero lì e mi dicevo ma noi dove eravamo cioè noi mentre tutto questo accadeva parlavo del viaggio con mio padre a 16 anni mio padre mi portò a Dachau a campo di concentramento e ricordo questo posto dove spogliavano quelli che portavano dentro Dachau e c'erano tutte queste scarpe al Santa Maria della Pietà c'era il museo della Pazzia che erano tutti i padiglioni dell'accoglienza di queste persone che venivano internate o ricoverate e il primo padiglione era il padiglione in cui toglievano le scarpe quindi mi fece così impressione mi fece così impressione perché dissi sta accadendo qua a Roma sull'Aurelia una cosa che io ho detto mazza nel 45 la privazione della dignità toglievano gli occhiali io sono mio per tantissimo 5 gradi per occhio se mi togli gli occhiali io sono una persona finita non posso leggere non posso guardare un film non posso guardare manco il mare questo accadeva in virtù del fatto che i lacci sono pericolosi e quindi l'idea di ridare la dignità a queste persone per esempio al manicomio tu arrivavi ed erano tutti pulitissimi perché li spompavano magari con la pompa tu arrivi lì e tu vedevi queste persone magari sporche trasandate con la barba lunga la dottoressa che curava il progetto diceva noi non possiamo obbligarli dobbiamo fargli capire perché è importante per loro curarsi perché è importante riassumere riprendersi la propria dignità e questa è stata un'esperienza che chiaramente è stata talmente forte che ti ripeto è una roba che non ci puoi passare sopra e sulbitizzare appunto per chiudere poi una risata era bellissimo perché questa qui diceva visto il mare no no io c'ho che andava allo mare portamelo mare portamelo mare insomma alla fine in questo pieno spirito qualcuno allo suddito del culo prendiamo il pulmino io mi assumo io la responsabilità si va al mare e lei col cappotto perché i matti sapete che hanno il termometro sballato è la prima cosa che ti insegnano l'avete visto per strada che certe volte vedi qualcuno senza scarpe diciamo non sentono freddo proprio l'ipoteremia no è una roba strana pensa quanto può la mente vedo questa signora col cappotto vedere il mare correre verso il mare e cominciare a scavare una buca e io dico guarda questa signora così anziana che ha passato questa vita chiusa che gioca con la sabbia poi si cade i pantaloni e ci caga dentro e io dico va benissimo così Gabriele Corsi a Decore Podcast secondo brano Decore della sua playlist probabilmente risuonava anche questo nella macchina con tuo padre in quel viaggio verso nord Lucio Dalla cara a Decore Podcast Lucio Dalla qua l'applauso ci sta ragazzi qua se volete sentire un po' di racconti inediti su Lucio Dalla andatevi a ripescare la puntata con Samuele Bersani che naturalmente ci ha raccontato delle cose speciali e tu rispetto a questo brano a questa canzone c'è un passaggio che ti ricorda qualcosa di particolare grazie sì grazie mille sì c'è il passaggio e io che sto morendo e tu che mangi il gelato adesso io non mi ricordo esattamente di che anno fosse io però ricordo che la prima proprio cotta ce l'ho avuta in terza media per la compagna che era lì dalla prima media sai quella proprio Candy Candy proprio innamorato perso così lei non mi ha guardato per due anni e poi in terza media mi manda il classico bigliettino nella coccoina con scritto c'è il bigliettino per te ti vuoi mettere con me? sì no vai porca miseria sì poi alla quinta ora mi manda un biglietto con scritto ci ho ripensato non stiamo più insieme e poi c'era pensa quanto può assegnarti una roba e c'era appunto inglese e fa chi vuole farsi interrogare lei fa io io e io penso io che sto morendo e tu che mangi il gelato sto morendo e tu ti fai pure interrogare io non è che me la sono presa però ovunque tu sia vaffanculo mi hai spezzato il cuore e guarda cosa hai perso sei infelice spiace spiace e comunque e comunque lei proprio non era neanche presa perché addirittura è come è nata quell'interrogazione d'inglese no questo lo ricordo però mi ricordo che le avevo regalato una gomma di quelle profumate e poi tutto il dubbio era mamma mamma devo fare i da come se fossimo stati insieme capito chissà no tipo passo a casa a riprendermi le mie cose no però appunto non ce l'ho con lei vaffanculo no adesso poi non sono uno che si ha legaldito vaffanculo oppure io non ho non ho facebook l'ho cercata su facebook ho detto mi presti l'account fammi vedere se c'è sta fammi vedere se sei lasciata c'era si c'era e non hai visto se era cioè se è sposata era sposata no però mi sembra che si è invecchiata male sto scherzando però per amore di battuta secondo te lei se risente questo podcast capisce che lei secondo me lei non proprio manco si ricorda cioè ma proprio non mi ha proprio cagato eh no 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 sono troppo no no poi anche perché potrebbe essere falso senti ma ti è capitato per caso di qualche ragazzino che quando eri piccolo ti trattava male venivi menato adesso si chiama bullismo però abbiamo tutti preso un sacco di botte da ragazzini non è che adesso si chiama bullismo era bullismo pure prima sì però non si chiama io lo sapevamo non si chiama non si chiama così era la legge era la legge della giungla nel senso non si chiama bullismo non è che andavi a casa e dicono questo è un atto di bullismo però pensa che bello il bullo dell'epoca dicevo io a Gabriele Corsiglie menavo però quello che succede spesso quando poi qualcuno invece c'ha un po' di successo nella vita almeno io ce l'ho avuto veramente un'unghia però a me mi è capitato che uno che me menava quando ero ragazzino poi è venuto da me e è fatto grande e ti ha rimenato tu sei grande seguo tutte le tue canzoni vedo quello che fai hai fatto la sigla di subburra sei il numero uno io dentro mi dico ammazza questo che pezzo che facciamo viene da me nel senso ti è mai capitato una cosa del genere sicuramente mi è capitato quello che diceva l'ho sempre saputo mentre invece magari è uno che ha fatto di tutto per metterti i bastoni soprattutto nell'ambiente io di te lo sai ho sempre parlato benissimo a me fanno molto ridere quelli che ne so mi è capitato spesso anche le rappresentazioni di grandi palinzesti che c'è quello a fianco a te una volta ne parlavo con Max Giusti c'è un personaggio molto famoso che è notorio per questa cosa e adesso sale sul palco Darío Fiumicino questa è proprio una pippa questa è un coglione questa non si può guardare grande bravo Danilo mamma che pippa Alessandro mamma questo è proprio un coglione così io mi ricordo c'è stato Max Giusti c'è stato io a un certo punto dice ma andai a andare al bagno sì non salzavo che parla male di noi oppure famo a turni che almeno uno presidia capito sai quelle cose dicevo se te fai via questo salzo è andato via oh quello è un coglione una cosa sai le persone che parlano solo male degli altri questa cosa qua oh che però questa è interessante però tu hai condotto molti quiz televisivi qual è il montepremi più alto che hai regalato cioè no come si dice io no io di mio niente infatti in un tuo programma la gente dice quanto sei contento quando vincono te credo mica sono miei i soldi io credo una lira no io ricordo una volta reazione a catena che forse è una delle vincite più alte in Italia una sera solamente 137 mila euro e ricordo benissimo che io dissi 137 mila euro bravissime voi pensate che io per fare 137 mila euro ci metto due giorni me l'hanno fatta rifare tutti hanno riso tutti hanno riso no 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 perché poi dopo chissà a casa dico ma chissà Cristiano Ronaldo dico è una battuta è ovvio me la fecero rifare cioè e sono le famose vincite in gettoni d'oro gettoni d'oro ma tu l'hai mai vista questi gettoni d'oro sì sì cioè come sono fatti sono di varia grandezza dipende dal valore però se tu vuoi io suggerisco sempre anche a Don Forgatti gli ho detto non prendere i soldi fatti portare arriva il furgone porta valori con il tipo che ti porta il sacchetto tipo Robin Hood tipo Robin Hood ti porta il sacchetto perché tu potresti perché è in gettoni d'oro perché lo Stato non puoi solo lo Stato può erogare vincite in denaro quindi un quiz televisivo un quiz radiofonico può dare il corrispettivo il valore corrispettivo ma non in denaro in base alla quotazione dell'oro in quel momento esatto e loro poi ti dicono vuoi che te lo cambiamo noi se te lo cambiano loro c'è sempre ci perdi un po' un margine insomma se vinci tipo 50 euro che te hanno una grattata una scaglietta viene quello là conosci un quiz che te danno 50 euro mazza mi sembra un po' poco e come vengono tassati questi premi lo sai ragazzi sono pure laureato ma 137.000 euro quanto diventano poi una volta tassati adesso adesso non so l'indice Mib oggi come siamo andati qualcuno la vincita gliela portano proprio materialmente allora se tu vuoi se tu vuoi il denaro ti fanno un bonifico e ti fanno un cambio loro detraendo detraendo le tasse se non so se no ti porta il furgone porta valori ti porta proprio fisicamente i gettoni d'oro quindi guardate vi do un forget the lyrics guardate chi ha vinto tanto cercate l'indirizzo da qualche parte questi gettoni ce l'avrà e può e può accadere il discorso dalla produzione non so di chi che dicono oh questo sta a vincere troppo cioè c'è sta a rovinare non so se avete visto adesso abbiamo questa campionessa Silvia che è una roba incredibile pazzesca e anche per rendere tutto un pochino più insomma diciamo interessante dal punto di vista televisivo abbiamo visto delle canzoni assurde però la cosa bella è che a un certo punto ah questo lato B di Ivan Graziani la conosco è pazzesca anche perché il gioco tutti quanti dicono eh ma troppo facile ma dipende da che cosa ascolti c'era ieri una ragazza che a un certo punto dico che fortuna Riccardo Cocciante un amico mi fa non so di che cosa parli non credo che dividerà una montagna è la prima volta che la sento quindi cioè dipende da quello poi a volte si capisce quando io lancio e poi questo disco recentissimo che tutti conoscete se io se guardate ogni tanto io mi giro i ragazzi che sognano di me quelli che chiamo scordinati ogni tanto scoppiano a ride perché io mi giro io ho visto sbagliare ricominciamo di Adriano Pappalardo volevo davanti ad Adriano Pappalardo volevo sì volevo spaccare il televisore cioè una roba una roba incredibile che sembra Ninetto Vodauria tra l'altro Adriano Pappalardo quando hanno sbagliato ha detto non lo fare mai più mai eh lo so ma a me piace troppo eh però avevano litigato avevano litigato loro giusto loro due Zekila Pappalardo di questo sono molto fiero e anche la volta che venne mal che gli ho detto girati girati e ho detto mal di spalle e lui e lui è rimasto ragazzi che fine ha fatto sono piccole soddisfazioni che fine ha fatto Ermutanda lo ricordi Zekila potremmo ospitarlo chiamalo chiamalo senti ma l'uomo gatto è stato un po' il capo stipide nel senso però sono due giochi differenti sì lì devi riconoscere la canzone come sarebbe l'uomo gatto a Don Forgey a Deliri beh ce l'abbiamo avuto qualche uomo gatto abbiamo avuto Mirko il meccanico di Prato poi la cosa bella di chi viene a Dante è che non vuole fare il cantante Mirko fa il meccanico rimasta a fare il meccanico a Prato adesso secondo me questa ragazza che abbiamo c'era un articolo è di quel livello lì sì perché secondo me un conto è indovinare il titolo della canzone ma le parole delle canzoni vi sfido a venire qua e a cantare la vostra canzone preferita sicuramente un errore lo fate per dire io ho imparato delle cose incredibili cioè Alba Chiara Vascorossi ho sempre cantato in particolare in particolare invece il testo dice un particolare chi è che lo sapeva con un particolare lui sapeva solo questo o sta cosa sapeva Danilo Danilo per esempio è andato fuori di testa per Grignani sì che era un viaggio allora che un viaggio è un viaggio a senso solo Grignani canta la prima strofa un viaggio a senso solo intendendo a preposizione invece se ne ha strofa dopo chi è accanto a un viaggio a a senso solo cioè regà poi io vuoi male e poi raccontavo prima a loro che mi capita spessissimo che mi scrivono cantanti dicendo guarda che avete sbagliato avete messo il testo sbagliato io la prima volta ci sono cascato ho tornato a regà mi ha scritto no ma non è possibile poi se mi andate a controllare io gli ho riscritto guarda che tu il testo l'hai depositato così e anche tu mi hai confessato che spessissimo i cantanti non la cantano come l'hanno depositata e se scordano che l'hanno scritta in quel modo e poi la cantano e si abituano a un nuovo testo per loro il testo quello che cantano è quello vero e devo dire che lo stesso cantante molto famoso mi ha fatto ma sai che c'ha più senso scritto a te infatti così così c'ha più senso potresti anche dire il nome noi lo mutiamo lo tagliamo però non si può dire no perché poi dopo mi ha detto ma non lo di però lui la cosa la cosa bella è che poi mi fanno ridere la gente vuole sapere la sai la cosa bella la sai la cosa bella qual è che questa cosa qua lui mi ha mandato un messaggio personale e ci ha fatto anche una storia dicendo ah stasera guardavo da un forchetto poi dopo di che mi dice non lo di ho fatto ma hai fatto una storia quindi però no glielo ho promesso non posso dire possiamo solo dire che con un ospite che è Danilo sta provando a far venire a decore i podcast in tutti i modi e chissà che non ce la farà prima o poi ma chi non lo posso dire te lo dico dopo te lo dico dopo no è che guarda guarda te lo direi il problema mio è questa roba qua che quando prometto mantengo come ambra esatto te lo ricordi il testo se prometto che poi mantengo prometto prometto ti giuro amore amore all'eterno vabbè ma è basta la domanda allora ma poi devono ma voi domani mattina svegliate ai 5 e mezza state qua tutti belli rilassati faranno un film una fiction su Gabriele Corsi sulla vita di Gabriele Corsi da quale attore vorresti essere Picchio Favino no stavadi sono esclusi Favino e Beppe Fiorello pure se morti ma veramente Beppe Fiorello ma anche se muoio se muoio Beppe Fiorello allora vi dico questa roba io da chi vorresti essere interpretato no è uno che mi somiglia è vero somiglia troppo no oggi Giro Cascio Fabrizio Gifoni e anche perché quando io sono stato espulso dall'Accademia d'Arte Drammatica vi racconto questa cosa e poi dopo eh perché allora sei stato sei stato cacciato dai frati no cacciato dai frati dai frati sono andato io allora l'Accademia allora io sono stato messo diciamo ho cominciato il mio maestro di elementare ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica quindi era uno cui le arti figurative mi piacevano tanto mi mette su un palco a otto anni e dico io questo è quello che voglio fare nella vita io nella vita ho sempre voluto fare quello o meglio volevo fare il pompiere ma poi ho fatto i test siccome soffro dei vertigini mi hanno scartato allora io a 18 anni mi sono diplomato al Cagur e ho fatto il concorso all'Accademia d'Arte Drammatica dove ero l'unico che aveva un cognome che non appariva come parente di qualcuno che lavorasse nello stabile l'unico no eramo 5-6 tutti espulsi infatti e praticamente io da Cinecittà vado in questa struttura accademica così eh dove la prima cosa che fanno allora domani venite mi raccomando vestiti tutti con la vostra attrezzatura da mimo da mimo vabbè io il giorno dopo vado con una tuta tagliata a metà del Cinecittà dove giocavo una maglia da calcio nera ma sempre scritto Samsung una roba un marchio un brand lei fa ti sei vestito da portiere di calcio con tutti che mi guardano con disapprovazione guarda questo va bene cominciamo allora adesso vi chiedo di un po' di attenzione eravamo in questa enorme palestra con questi specchi dappertutto allora ora faremo l'acqua ah sei va al bagno no faremo l'acqua vieni tu 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 io come Fantozzi no nascondevo tu vai vai no no tu ah io tutti da una parte e io con questi altri te dall'altra parte della palestra l'acqua esattamente poi vedo uno che si butta per te cominci a fare io lì mi immaginavo veramente amici miei di Cinecittà che mi guardavano a dire ma che cazzo stai a fare ma che stai a fare io con la mezza tuta vi ricordo del Cinecittà eh loro vestiti da Mimo con le scarpe da Mimo poi ho scoperto che c'è un negozio che vende solo attrezzature da Mimo sta via Cavour ma come campano chi compra solo roba da Mimo quindi io lì così guardo intorno e penso ho l'idea dell'altra prendo e mi appoggio da una parte dura una cosa infinita non finisce mai questo e io lì sempre appoggiato 20 minuti ma bene ok basta grazie 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 così allora cominciamo da te ecco io ho cercato di dare la dimensione dell'acquitrino volevo rendere questa dimensione di uno specchio d'acqua non completamente limpido ma non completamente sporco però ti sei un po' mi sono un po' perso è vero a un certo punto ti sono un po' perso tu invece io mi sono calato e mi sono sentito a un certo punto realmente oceano si è sentito oceano a me è piaciuto a voi è piaciuto sì sì è piaciuto è piaciuto cioè forse lavorerei sulla profondità ecco così sì la profondità ci devo lavorare ma il terzo io ho pensato a un lago prealpino no non è arrivato tu invece proprio non ho capito e io tutto contento beh io ho fatto lo specchio d'acqua fermi questa reazione non c'è stata c'è stato il silenzio totale anzi uno che è stato espulso con me ma guardate mi ha fatto mazza però cioè era geniale poi dopo mi ricordo che dopo a un certo punto abbiamo fatto il fuoco l'albero e mi ricordo sempre abbiamo fatto tutti quanti il fuoco io no ok l'abbiamo fatto tutti cioè non mi ha fatto fare più niente ma era per lì io sinceramente ero così contento di questa idea non ha riso nessuno per me è stato un grande shock ti hanno cacciato dopo questa cosa dopo tre mesi mi hanno cacciato però sono andato a fare uno spettacolo in cui c'erano Fabrizio Gifuni Gigi Locascio e Picchio Favino cioè dal primo anno perché loro stavano al terzo anno gli andai a fare l'assistente alla regia lavoravo con loro praticamente facevo il tecnico del suono per imparare e ho visto insomma tre grandi attori che hanno cominciato proprio a calcare le scene in quel momento e quindi siamo molto amici perché sono stati proprio i nostri esordi pure loro avranno fatta l'acqua no loro forse prima ma non lo so però magari io non sono quel tipo d'attore ma non c'è nessuno che si è pisciato sotto queste cose queste cose eclatanti capito secondo me molto Carmelo bene molto Carmelo bene entriamo e iniziamo ad andare verso un orizzonte finale per cercare per mandare a casa non è ancora alla fine mancano ancora diverse domande ma diverse però le facciamo in maniera un po' ritmata quindi comunque la colpa è mia che ho accettato di venire il gioco è sempre questo l'ospite ci dice quanto dura noi diciamo un'oretta poi alla fine in realtà sono sempre un paio è un sequestro se tu gli dici dura due ore e non viene nessuno ma mia moglie fa un podcast che dura sette minuti io ho detto vabbè dai fatta ma noi non abbiamo capito niente perché sono quelli brevi che funzionano noi invece facciamo una cosa proprio contro il mercato ma è la storia un po' della nostra vita non vogliamo far successo ma soprattutto non vogliamo far soldi soldi mai ce li volevamo rimettere ma chi sta sentendo ma chi si sta a vedere in video e te è partito un video che tutto sommato penso che partiva altro eri te eri non mi fa fa ste figure ve la faccio io una domanda l'avete fatto il testamento cosa è la prima cosa che scrivete sul testamento vai io vi dico la mia cancellate cronologia ah quella che poi ho lasciato detto questa è la prima cosa che però gli fa venire ancora più voglia e non la vede invece Mari se non dicevi niente restava là dice che c'è starà no però scusate epitafio ci avete pensato cosa scrivere sulla tomba io ci ho pensato guardate fatelo perché poi se no qualcuno lo fa al posto vostro e poi magari scrive una cagata e te tutta la vita c'è tutta la vita tutta la morte ti tieni una roba del genere non è bello io ci ho pensato anche perché Danilo l'ha chiesto a un ospite in una puntata di Decore che non l'ha presa bene non l'ha presa bene per niente l'ho tolta sta domanda e tornando a casa poi ho detto io che cosa ci scriverei ho pensato all'ultima frase di un film di Pasolini in cui c'è Accattone con il motorino sdraiato su un marcipiede vicino a lungo tevere e dice ah e mo sto bene io quello ci scriverei molto bella Danilo? ah no io non scriverei scordatevi di tutte le cazzate che ho fatto questo è una cosa io ho pensato una cosa ma poi mia moglie mi ha detto che era troppo presuntosa che era perché piangete quello morto sono io e lei ha detto chi ti ha detto che piangiamo? mia moglie è la comica della famiglia ragazzi io lo dico sempre quando le ho detto vuoi sposarmi mi ha risposto perché no sì no perché guardate che è la cosa risposta più bella del mondo però sai te che mostrai a lungo il podcast io volevo andare a chiudere andiamo a chiudere andiamo a chiudere mi ha fatto io anche per te perché te svegli presto perché hai risaputo andiamo a chiudere so è 11 e mezza Gabriele quindi no no è il 31 dicembre che non faccio stora allora delle battute veloci ti abbiamo chiesto dei film dei core tu ci hai detto qualcuno volò sul nido del culo che hai anche citato prima perché in qualche modo fa riferimento a una tua esperienza diretta no sì che è un film bellissimo perché è Decore per te? è Decore perché è un film bellissimo vero duro e e che appunto mette la pazzia in una prospettiva completamente diversa no c'è anche di di volontà di libertà cioè alla fine c'è questa beh no il rischio di spoilerarlo se non l'avete visto guardatelo insomma però comunque che anche parla anche di eutanasia se vuoi insomma no cioè quindi di volontà di liberarsi dal peso del corpo cioè di non dover per forza esistere se questa esistenza non è non si confa a quello che vuoi e che quello che pensi sia giusto per te quindi è un film veramente che mi ha sconvolto quando lo vedi la prima volta secondo film Decore di Gabriele Corsi Il Cacciatore Cacciatore perché parla appunto della guerra in Vietnam di chi torna della guerra in Vietnam della durezza e della diciamo dell'assurdità della guerra e del fatto che poi alla fine vinti vincitori non è che ci sia tutta questa differenza ed è bellissima la scena finale visto che hai citato a Cattone la scena finale appunto in cui loro cantano God Bless America e poi fanno questo brindisi fondamentalmente a uno di questi loro amici che è semplicemente impazzito e non c'è più quindi penso che sul Vietnam sia uno dei film più belli in assoluto spostandoci invece nella sezione Libri Decore ci hai citato Garzia Marquez Cent'anni di solitudine il colonnello Aureliano Buendia non si sarebbe mai dimenticato di quando il padre lo portò a vedere il ghiaccio solo per queste quattro righe iniziali secondo me il libro va va visto e va 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 visto va letto e io sono un grande patito di Marquez di letteratura sudamericana però se permettete se magari qualcuno di voi ha la curiosità magari se non ha letto Cent'anni di solitudine fatela visto che abbiamo citato il manicomio c'è questo libro bellissimo di Milone si chiama lui Paolo Milone si chiama l'arte di legare la gente ed è il racconto di questo psichiatra del reparto 77 del Gaslini di Genova tutto vero in cui racconta appunto la pazzia veramente in un modo incredibile un libro che ti incolla e che ti in qualche modo ti inchioda quindi a me piacciono questi libri che ti lasciano qualche cosa anche di forte la nostra volontà è che chi non ha visto i film o non ha letto i libri in qualche modo se li va a recuperare e ci succede spesso che poi qualcuno ci scrive che ha vissuto magari ha passato un paio d'ore speciali perché si è andato a riscoprire un contenuto che ci ha portato l'ospite perché chiedere qualcosa di core a qualcuno è una domanda anche un po' tagliata con l'accetta perché tra le tante cose che uno vede le esperienze che fa dire un libro due film è molto riduttivo nella vita un po' perché in qualche modo finiscono per rappresentarti e mai una cosa sola ti rappresenta un po' perché appunto nella vita di esperienze se ne fanno tante non è detto che tu possa portare una cosa quindi quella scelta ha un peso enorme e quindi siamo sicuri che la carica del peso che ha questa scelta poi in qualche modo invogli chi ci segue ad andare a scoprire questi contenuti poi c'è una sezione che appunto si avvicina verso la fine di questa esperienza fatta insieme che attiene un po' di più a quello che solitamente Danilo fa nello scherzare con i suoi reel sulle ricette dal mondo e ti chiediamo tu ce l'hai una tua ricetta a decore tu cucini cosa prepari ai miei amici non so cucinare però la ricetta a decore sono i filetti di zucca fritti che è proprio uno dei miei piatti preferiti che mi ha insegnato mia mamma e il trucco ma i fiori o i filetti i fiori di zucca ah i fiori hai detto i filetti ho detto i filetti hai detto i filetti ho detto che sono i filetti di zucca no pensate sono una roba una roba è il nuovo casino la parte nobile della zucca no lì il trucco è semplicemente mettere un po' di birra nell'impasto in che occasione li prepari beh l'ho preparato per conquistare mia moglie e mi sono sentito male mi ha portato all'ospedale giuro tutto vero perché mia moglie sbocconcella io per far il gradas ne avevo fatti i 20 stavamo al mare a casa mia e io la mattina trasmettiamo a Radio Capita la domenica quindi dovevamo tornare a Roma io non ho mangiato i 19 perché il cibo non si butta quindi sono stato malissimo mi ha tenuto come i cani con la testa fuori dal finestrino dalla civita vecchia a Roma e mi ha portato a fare una iniezione dei cortisone al pronto soccorso e poi sono andato in diretta ma ci metti l'alice dentro no io lo faccio secco così mi piace più povero senza proprio niente manca mozzarella senza niente non state in cazzo te lo dico state fritto cioè il fiore di zucca non state niente state fritto io sto per fare le ultime domande a meno che tu non hai no si è fatta una certa io ho il quiz che l'ho fatto facciamo il quiz vai vai cosa no il quiz poi che quiz non è un quiz ma mi ha preso manco so che è ho fatto la ricerca di cosa cercano di te su google ah che cercano e sono uscite diverse ti cerchi mai tu su google no mi arriva mi arriva la rassegna quella cosa quella lì però no però non vai mai su google la cosa bella di google che non ti dicono mai oh hai visto che bello questo articolo c'è sempre alcuno che fa hai visto quello che scrive di te che ti fai no ma io non lo voglio sapere sta roba qua che cercano di me allora la prima domanda è chi è la moglie di corsi è proprio la prima la prima domanda la prima domanda che cercano poi la seconda è che squadra ti fa Gabriele Corsi ah ok vabbè poi dove lavora Gabriele Corsi ma dove in che senso infatti io non so chi è poi sono andato a vedere tutte le cose che ho fatto poi quanti anni ha Gabriele Corsi 32 e poi ma sempre voi la ridete sempre questa zona qua sparpagliatevi poi andate a leggere se uscite queste due cose quanti anni ha Stefano Corsi chi è? sono andato a vedere è tipo un notaio ok sì e l'altra cosa è chi è Stefano Corti il compagno di Bianca Azei cioè t'hanno t'hanno scambiato per Stefano Corti quindi per la questione dei iene probabilmente sì ma forse no ma forse per l'assonanza del cognome perché tipo Cristiano Malgioglio mi continua a chiamare Gabriele Accorsi quindi può essere pure quello sembra che addirittura Cristiano Malgioglio questa gaffa l'abbia fatta pure durante l'Eurovision no l'ha fatta un pomeriggio dicendo no adesso presentiamo questo programma io e Gabrielluccio Accorsi però poi detto questo Cristiano è una delle persone più carine del mondo Danilo ha visto al mio compleanno Cristiano Malgioglio e Pupo cantare gelato al cioccolato insieme una roba epica live e ci hanno detto che era la prima volta che la cantavano insieme in assoluto poi vabbè il compleanno è finito con noi che ci siamo tatuati durante il compleanno sì perché ho fatto open bar e tatuatore e alla fine è venuto poi manco mi ricordo cioè siamo fatti tutti i tatuaggi c'è una foto mentre Gabriele si tatua io gli sto sopra 50 mi sono fatto tatuare il 50 no la cosa bella è che finita l'esibizione poi c'era insomma un sacco di gente un sacco di amici Pupo mi ha detto sta cosa se la andavi a pagare ti costava 30.000 euro va bene senti potessi scegliere un superpotere sì quale superpotere vorresti puoi prendere da qualsiasi puoi ispirarti a un supereroe puoi inventare un superpotere tu da zero la resistenza totale cioè non è che voglio essere forte però se tu mi vieni contro un camion cioè tu mi vieni addosso con un camion il camion si rompe io ho pensato la resistenza quella del forno sì anche è tipo incandescente così per esempio tipo te hai parcheggiato a cazzo su una rampa dei visabili io ti do una schicchera e ti rompo il cofano e se tu mi vuoi picchiare ti fai male tu io non ti picchio però ti fai male tu come si chiama quel supereroe tutto le pietre l'uomo roccia però l'uomo roccia picchia invece io non voglio picchiare voglio che tu mi dai un pugno e ti rompi la mano la capacità di assorbire quindi di incassare di essere indistruttibile perché poi il problema dei superpoteri è che a volte non invecchi invece a me piace invecchiare anche perché poi diventa cattivo invecchiando perché dice quello è vecchio visto che cosa dice poi parla male dei giovani che tanto ognuno che passa gli dà un coppino a questi giovani e invece io penso che a me la cosa che sconvolge dei giovani che io faccio delle battute a volte anche scorrette a casa così mio figlio mi tira un culo ragazzi papà questa cosa non fa ridere dico amore siamo io e te stiamo a scherzare così poi voglio dire la mia storia penso che parli per me quindi voglio dire però si arrabbia tantissimo quindi la resistenza il fatto che io ti ripeto se io hai parcheggiato male perché sono un po' diciamo medio man capito io per il parcheggio vabbè meglio cioè meglio come superpotere ausiliare del traffico a sto punto eh no però non è male però mi piacerebbe mi piacerebbe prima di fare l'ultima domanda a Gabriele di finalmente liberarlo e farlo tornare a casa ai suoi impegni che domani mattina sono tanti ma io c'è un altro podcast ah adesso c'è che a me io mi tengo sempre così attivo e vogliamo ringraziare tutti voi che siete venuti qua stasera e fatevi un applauso c'è una domanda certo chi vi è saltato oggi per avermi chiamato chi ci doveva essere no 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 bisogna dire la verità che Gabriele è stato invitato dal primo momento è stato il primo in cui abbiamo immaginato Decore Podcast è lui che ci ha rimbarzato per un annetto anche perché anche perché noi i primi ospiti erano tutti amici quindi quando avevamo finito la rubrica del telefono e quindi tu eri uno dei primi io scrivo a tutti su Instagram ho scritto pure a Papa Francesco no Danilo è talmente carino che ci ha messo un po' per invitarmi vabbè poi senti ma gli vuoi far sentire ultimamente io ho invitato e mi ha risposto Eros e lui mi ha detto eh no ma io sono sempre in Sud America sono due settimane che sta a Roma ci è rimasto malissimo Danilo perché dice e io scrivo tutti i giorni e me legge e non mi risponde secondo te che vuol dire gli hanno fatto pure il murales quindi voglio dire volevo parlare pure di quello niente vogliamo ringraziare il Riverside che ci ospita e tutto lo staff che lavora a Riverside vogliamo ringraziare Doppcast che produce questo podcast al mixer quindi a quello che avete sentito in sala questa sera Marco De Tommasi e alle registrazioni e alle basi musicali su cui parliamo Matteo Pieravanti grazie Matteo pensa a gente che ci lavora a sto podcast e non li stiamo dicendo tutti siamo arrivati alla fine facciamo la domanda conclusiva chi è che la sa qual è la domanda conclusiva dei decori podcast i sogni aiutano a vivere è una cosa un po' marzulliana c'è qualcuno che la sa prima o poi faremo lo scontro Alessandro versus Marzullo io non vedo l'ora questa cosa voglio prima sentire se qualcuno in sala la sa Peter Pan la domanda è Peter Pan ma tipo tu c'è la storia o la canzone nella favola di Peter Pan e poi nel film Huck e Capitano Uncino quindi tutti i riadattamenti di questa storia molto bella i pensieri felici servono ai bambini per tornare ad essere felici e raggiungere l'isola che non c'è si staccano piano piano da terra e se ne vanno all'isola che non c'è che è un diciamo una metafora di un contesto in cui non c'è l'affanno della vita quotidiana noi chiediamo a chi ci viene a trovare qual è il tuo pensiero felice quella cosa che ti ridà un po' di serenità durante la giornata quando c'è un momento difficile quando la sera non riesci a dormire quando sei nervoso che è che ti dà gioia allora siccome siamo tra amici e il podcast si chiama Decore eviterò di fare una battuta e di dire una cosa così tanto scontata o meglio dire una cosa che vi potrà sembrare scontata ma che invece penso veramente mi fa piacere addormentarmi la sera pensando che ho fatto un lavoro non necessario se io ogni mattina non mi svegliassi il mondo andrebbe avanti non è che faccio il dottore e il cardiochirurgo le uniche cose belle che mi fanno come dire guardare con serenità mi fanno stare bene in Decore è pensare ad aver fatto qualche cosa per aiutare fisicamente gli altri visto che parliamo di bambini sono stato l'anno scorso in Etiopia e ho pensato di aver visto tutto nella mia vita ma un posto dove i bambini non hanno neanche un giocattolo non l'avevo mai visto quindi l'idea che uno possa in qualche modo aiutare i bambini i bambini dovrebbero stare semplicemente o a scuola o a giocare non sotto le bombe non in una guerra non in mezzo al deserto mi portarono lì in questa regione degli Afar con una bustina di alimento terapeutico e mi dissero scegli a chi dar una delle cose più strazianti della mia vita ho detto non mi potete chiedere questo quindi se con la mia visibilità se con quello che faccio ho aiutato minimamente qualcuno di questi bambini penso che anche semplicemente non a cambiare la vita ma insomma ad andare avanti per quanto era possibile penso che questa cosa mi faccia stare veramente molto Gabriele Corsi a Decore Podcast grazie veramente di cuore a voi buonanotte a tutti una produzione Dobcast Dobcast Grazie a tutti